Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Rezzo TV, bentornato a Beppe Marconi, buonasera. Perché dove sono stato fino adesso? Non lo so dove sei stato. Sono mancato qualche volta. No, da ieri, ieri siamo visti, ieri sera eravamo lì a Inbiatizia, non ti ricordi, non ti ricordi, non ti ricordi niente. No, sai la certa età succede. Eh, non ti ricordi. Allora, siamo tornati qui nel sentiero della Bonifica perché dobbiamo dare una bella notizia. Sai che eravamo stati qua due volte, lo sai? Come lo so? Questo lo sai, ti ricordi. Bene, allora siamo stati qui due volte perché c'era un ammasso incredibile da mesi di rifiuti che erano stati inizialmente tirati su, da dove? Dalla Chiana? Dalla Chiana, erano stati tirati su dalla Chiana, accatastati qui, poi a elettrodomestici, c'era di tutto di più, oli di motore. Finalmente è tutto pulito. Ora è tutto pulito, ma non come tu ti potresti aspettare perché magari è venuta sei Toscana o sette Toscana o un'altra cosa o qualche ente più o meno pubblico. No, dobbiamo ringraziare i volontari di Casa Pound che sono venuti. Pensa a te che briga che si sono presi hanno praticamente pulito tutto questo schifo, si può dire che c'era qua. Questo l'ha fatto bene, è una cosa civile, è una cosa che un po' tutte le organizzazioni dovrebbero fare perché l'amministrazione pubblica non arriva dappertutto purtroppo. E quindi diamo merito e applauso a questi volontari. C'era il Breda anche? Non lo so. Ma ha fatto una domanda. Cosa c'entra ora questo? No, perché così almeno non riesce di fare... La parte che fa parte di un altro movimento. Ah, scusa. Il movimento della, come si chiama? Per la sovranità. Dai, l'abbiamo... Ma pensavo fosse parte di Casa Pound anche lui. No. Ma tu ti piace perché è un tuo amico, perché non usciti spesso. E' un ragazzo con gamba. E' un ragazzo con gamba. E siccome è un ragazzo con gamba, deve smettere di occuparsi del nulla. Ah, ma quanto la fa lui! E qui sarebbe stato qualcosa di serio. Ma perché non si occupa di cose serie? Certo che si occupa di cose serie. No, piange sempre, deve smettere di piangere. Dove piange? E piange perché Pound dice sempre che gli altri non l'hanno fatto, gli altri non l'hanno detto, gli altri qui, gli altri là. Pensi un po' a lui a fare, visto che è un bravo ragazzo che sa fare. Tra l'altro l'abbiamo invitato... L'abbiamo invitato proprio questa settimana a Nego su Bianco, la puntata che è dedicata ai migranti. E' venuto e quindi... Mi potevi chiamare, no? Mi potevi chiamare. Mi potevi chiamare invece a parlare di altre cose. Comunque rimane qui. No, ma parlare con lui, no? Ah, con lui. Qui si è cercato di andare ad andare a questa velocità. Non ci ritrovano neanche. Siamo proprio sulla direttissima, passano Italo, Vecce e Così. Comunque, sono stati bravi. Sono stati bravi, però magari attenti in questo periodo di accendere i fuochi, perché è un po' pericoloso, specialmente vicino alla vegetazione così, basta che ti parta una piccola fiamma. Ci sono stati loro. Questo è evidente. Chiunque l'ha fatto, stia attento perché magari è sorvegliato al fuoco, ma basta che un attimo una folata di vento porti il fuoco in mezzo al verde. Meglio questa scena che... Quella serie di ammassi, di rifiuti... Questa cucina anche il terreno, quindi va bene. Una situazione veramente che da mesi andava avanti. Questo dimostra che però, grazie a dei volontari che si sono presi, ripeto, una briga che non è da poco, non è che parli... Era veramente grande questa discarica. No, era veramente obbubbiosa. Obbubbiosa. In vittura anche del fatto che altri volontari, e non la pubblica amministrazione, avevano preso tutta la ripulatura del canale maestro della Chiana e avevano depositato qui questi rifiuti, perché poi venissero prelevati, non so da chi, e portati via. Quindi un atto civile si era poi rivelato una problematica perché nessuno provvedeva ad asportare questi beni. Quindi, insomma, grazie ai volontari che le cose vanno avanti qui. Il volontariato è una parte essenziale di questo Stato. Se non l'avesse volontariato, l'Italia avrebbe problemi. Anche a livello locale, se non ci fosse volontariato... Ma tu vedi tutto quello che viene fatto a livello di sport. Se non ci fosse volontariato, la pubblica amministrazione non darebbe assolutamente niente. Sì, ha fatto tanto nel fare gli impianti, soprattutto negli anni passati, però gli impianti se non vengono mantenuti mi capisci che poi non serve assolutamente a niente. Quindi le città sportive fanno un grossissimo lavoro, anche nel sociale, così, un po' dappertutto. Se non ci fosse il volontariato in questo Stato avremmo grossi problemi, perché la pubblica amministrazione non ce la fa più a sostenere questi costi. È vero. E quindi grazie a tutti i volontari, grazie ai volontari... A tutti i volontari a tutti i livelli e a tutti i settori di cui si occupano, sia dai più seri a quelli più effimeri. E grazie ai volontari di Casa Pound che hanno ripulito quest'area. Tra l'altro loro fanno anche iniziative, ad esempio, per i libri, per favorire chi non può comprare i libri per la scuola. Fanno alcune iniziative, diciamo, sociali e è giusto che questo gli venga riconosciuto, a prescindere da tutto quello che poi, quando si entra la politica, poi porta all'ideologia, porta ad allontanarsi dai problemi. Allora, giudichiamo le cose che uno fa. Sono positive o no? Sono positive in questo caso. Questa sì. Questa sì. E quindi complimenti. E noi ci rivediamo domani. Ok. Ciao. Ciao.